Cosimo Cannito è ufficialmente il nuovo sindaco di Barletta. La proclamazione è nella ex sala consigliare dove il neoprimo cittadino ha indossato per la prima volta la fascia tricolore. I dettagli nella scheda. Questo mi sembra un sogno, ma devo smettere di parlare ora. Spero di essere all'altezza del compito. Sono state queste le poche parole che il neosindaco di Barletta, Cosimo Cannito, è riuscito a dire subito dopo la proclamazione del presidente della Commissione elettorale, il giudice del Tribunale di Trani, Maria Grazia Caserta. Emozione accompagnata da un lungo applauso del pubblico nell'ex aula del Consiglio Comunale di Barletta. Sarà un sindaco a tempo pieno, ha poi aggiunto Cannito, che fino ad oggi ha guidato il pronto soccorso di Barletta ed è stato responsabile della medicina di emergenza e urgenza della BAT. E mi dedicherò totalmente alla città, ai cittadini chiedo di stare con me, di non farmi sentire solo. Il neosindaco ha poi ricevuto in dono da una cittadina una penna con miniatura delle chiavi della città. Voleva darmela già due mesi fa, ha raccontato, e io le chiesi di aspettare e di farlo solo nel caso in cui fossi stato eletto sindaco nel giorno della mia proclamazione e oggi puntuale me l'ha portata. Voglio anche ricordare una bimba, ha concluso Cannito, che mi ha donato un suo bellissimo disegno con su scritto, viva Cannito sindaco di Barletta, è stato il mio portafortuna, lo appenderò nella mia stanza. Cannito succede a Pasquale Cascella, dimessosi circa un mese prima della scadenza naturale del suo mandato.